Sì Davio, giusto, oggi per altre volte portiamo in giro insieme a noi delle splendide magliette, nel senso che sono belle, che sono frate sempre lì al banchetto in cui parlavamo prima. E invece, parlando di qualcosa di più importante, il prossimo episodio si intitola, ovvero, chi ci ha già sentito la conosce, parla di un diavolo, un sole, uno si è capace di essere grande e potente, ma mai abbastanza, per scattare tutte le persone che hanno il cuore, e quindi ricorre se stesso a questa posta se stessi. Sì 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti